Il flusso vero si attende la prossima settimana, quando inizierà la perdonanza, ma in questi giorni già c'è un buon movimento turistico in città. Nella giornata di ieri la città era piena, pieni locali e ristoranti, gettonati i mosei, piace tanto il mammut. Nel fine settimana di ferragosto, insomma, le cose in città stanno andando molto bene anche dal punto di vista del commercio. Tanti romani con le seconde case, tante persone dal nord e dal sud Italia, ma ci sono anche gli stranieri. Un bel clima, insomma, in attesa della settimana più importante per gli aquilani, quando anche gli eventi serali animeranno il centro storico. Del resto, già a guardare la città, soprattutto la sera, si nota movimento, difficile prenotare nei locali, trenino turistico pieno, visitatori anche nelle basiliche cittadine, commercianti soddisfatti. Peppe Culaneri è un commerciante storico aquilano, come stanno andando le cose in questo ponte fine settimana di ferragosto? C'è movimento turistico in città? Molto, molto movimento turistico, molta gente, molta bella gente di tutte le parti d'Italia e d'Europa pure, pure americani, australiani, canadesi, è pieno, pieno, pieno. Ecco, siete molto contenti, tra l'altro il bello deve ancora venire, la prossima settimana inizia la perdonanza, quindi vi aspettate ancora più gente? Speriamo, sì, il bello deve ancora venire con la perdonanza, però già questo è molto soddisfacente. Allora, molto molto bene, noi siamo sempre aperti nelle festività e nella domenica, in più il nostro, diciamo, marchio è molto apprezzato dai turisti, è arrivato fino in America, in Germania, insomma il negozio viene apprezzato da molti. Ecco, sono prodotti cosmetici aquilani che il turista tende a riportare a casa? Sì, sì, tende a riportare a casa come ricordino e come ricordo della nostra bellissima città.